Salve ragazzi, io sono Fablinker96 e oggi siamo nelle news della giornata Allora, partiamo con una news molto buona per i fan di Castlevania Conan mi porta su PS4 Castlevania Requiem Che sarà un remake digitale dei due capitoli vecchi della serie Castlevania Symphony of the Night e Rondo of Blood Blood, scusate Io non li ho mai giocati, lo dico sinceramente Quindi non ho pari in capitolo È una grave mancanza, nella mia conoscenza video ludica però non li ho mai giocati, mai Anche perché bene o male sono gioie che sono usciti bene o male quando ero praticamente nato se non prima Quindi è anche difficile giocarseli da fin dei conti Allora Life is Strange 2 Al debutto solo un quarto degli utenti di Before the Storm Ah però Quindi il lancio di Life is Strange 2 è stato abbastanza Sembra quasi, cioè, fallimentare Sicuramente molti Secondo me aspetteranno molto la L'inizio completa O aspetteranno quella di tipo limited edition che c'erano per i primi dei capitoli Sarebbe, io infatti aspetto quella per comprarmelo Life is Strange 2 però Secondo me Un problema potrebbe essere anche il fatto che non c'è Max e Chloe da quello che ho capito e ci sono due nuovi protagonisti Cioè è una cosa che magari per molti non ispira Cioè a me personalmente avrei preferito che ci fosse qualche collegamento di sorta Così via perché comunque i protagonisti nuovi e chiamarlo Life is Strange 2 Non lo so, cioè ci può stare, non ho la storia per carità Però non so, io non l'avrei fatto così Tipo Before the Storm per dire Si sente che è uno spin-off C'è scritto pure, cioè non è Life is Strange 2 È Before the Storm Prima della Della tempesta Quindi è già diverso, capito? Una cosa un po' Diversa ecco Andiamo avanti Darkest Dungeon The Color of Madness arriverà ad ottobre per Switch, iPad e Xbox One Darkest Dungeon Che è un gioco che in molti hanno detto che è molto bello Ma che io non ho ancora provato E che non mi ispira particolarmente perché non è il mio genere preferito diciamo Ma magari quando si troverà 10-15 euro Volentieri Cioè Sembra il gioco Io meno male gioco un po' tutti i generi Ovviamente ho generi preferiti e generi meno preferiti Però quelli sono gusti personali e soggettivi assolutamente E poi Qualcos'altro PlayStation Store Sconti di Weekend Vabbè Quelli Sono tutti Weekend praticamente Vabbè questa notizia abbastanza poco interessante Little Friends, Dog & Cats arriverà su Nintendo Switch Ok, va bene Xbox One presto supporta la periferica come mouse e tastiera Quindi questa potrebbe essere una buona notizia Anche se comunque se una persona ha una console Generalmente gioca col pad Cioè Solo ti fai un PC da gaming Che alla fine Meno male Ti conviene Se vuoi giocare con mouse e tastiera Ti fai un PC Non ti fai una console Però Questa iniziativa fa capire che La Microsoft punta sempre di più A unire console E PC In un'unica periferica Perché se ci guardate le ultime mostre che hanno fatto in questo ultimo anno Praticamente Tende a Tende a fare solamente così A rendere molto più facile Il passaggio da console a PC Infatti Sono molto unite Molto 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 Shenmue 1 e 2 Potrebbe arrivare su Switch Questa sarebbe una grande notizia Perché Tutti dovrebbero giocare a Shenmue Perché È una serie Famosa e importante Io sul canale l'ho iniziato E lo continuerò a breve Perché Ultimamente ha troppi giochi da giocare Sul canale intendo Tra cui FIFA 19 Che ora usciranno molti video Perché È uscito Spider-Man Poi Cos'è che devo finire ancora Immortal Ho ancora Remostere da finire Insomma Un po' di cose al fuoco Se le ho Quindi per il momento È un po' accantonato Però Tornerà molto presto E Niente ragazzi Direi che Per oggi è tutto Giornata con poca Ah Notizia molto importante Che mi ero dimenticato Che è stata annunciata Ieri sera Dopo che avevo fatto Le news La PlayStation Experience Quest'anno non verrà organizzata Per mancanza di Di idee esclusive Quello che è Ma Giustamente Perché alla fine dei conti Fare una fiera In cui non c'è Non c'è niente Cioè Se non c'è niente di nuovo Non farla Non ti conviene Cioè Sinceramente parlando Non ti conviene Per niente Cioè Sono tutta figura Davanti agli utenti Quindi direi che Ha fatto Assolutamente bene Se non ha niente da portare Non vedo La Necessità Di fare Una Una fiera In cui C'è la mancanza Di innovazione Nel mancanza Di titoli Nuovi annunciati Quindi Che la fanno a fare Comunque La Sony Ha riservo Zero Fast 2 Death Stranding Days Gone Ha molte Molte esclusive Che devono ancora uscire E Secondo me Ne annunceranno ancora Tante Di altre esclusive Prima di PS5 Sono sicuro E Ne vedremo delle belle Ne vedremo delle belle E Anche perché Ormai Diciamoci la verità Xbox È Sempre più pronta A Essere più Una console da PC gamer Che da Da console Aro Un po' che parole Ormai Xbox punta Punta la grafica Punta i frame D'esclusive Ormai Xbox Non ne frega quasi niente Perché Da quello che ci vedo Ultimamente Una cosa che mi interessa A me È Forza Horizon 4 Quindi Xbox non è accenduto Da 4 mesi La vorrei accendere Ma Cosa gioco? A giochi che ho anche Su PS4 Non ha senso Cioè Mi giocare a giocare Scusi da quelle belle Ma non ce le hanno A parte Quantum Break Che ormai ha Quasi 4 anni Quel gioco E I Gears Vecchi Perché Gears 4 Non mi è piaciuto Per niente L'ho trotto Molto molto Scialbo Anche come protagonisti E Record carino Sì ok Ma Non sono quelle Scusive Che ti fanno Le vendite Ecco Ragazzi Per oggi è tutto Vi ringrazio E ci vediamo A domani Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi